e buonasera a tutti radio ascoltatori eccoci arrivati a primi calci la trasmissione di radio Milan Inter dedicata proprio al calcio giovanile e non professionistico eh numeri alla mano il calcio giovanile è davvero una cosa importante c'è il report del calcio fatto dalla FIGC lo dimostra chiaramente il numero complessivo dei giovani calciatori tesserati eh ammonta ottocento ventisettemila e un po' oltre ottocento ventisettemila giocatori e l'incidenza tra l'altro dei giovani calciatori tesserati dalla FIGC sulla popolazione italiana è davvero rilevante la fascia d'età fra i cinque e sei dici anni incide per il diciannove otto per cento ovvero un ragazzo su cinque gioca a calcio e tesserato per la FIGC tra l'altro ancora di più nella fascia dagli undici ai dodici anni raggiunge il picco ovvero il ventiquattro virgola sei per cento dei ragazzi di quest'età sono tesserati per la FIGC numeri davvero importanti ed infatti anche questa sera ne parliamo ne parliamo con i protagonisti quelli che seguono i ragazzi e li fanno diventare sempre più forti abbiamo in studio con noi la Dragon Goal di Milano zona eh est di Milano ovvero via le Monza eh Gorla Gorla è il quartiere ovviamente abbiamo Tonino Bartolotta che è allenatore dei giovanissimi buonasera buonasera e Luca Gandini dirigente sempre della stessa squadra buonasera allora iniziamo a parlare proprio ecco voi giovanissimi giovanissimi siamo in da lì no sono più giovani undici non dici anni un paio d'anni in più un paio d'anni in più c'è già stata la fuga dei cervelli e dei piedi che sono andati a giocare in altre squadre allora iniziamo subito con l'allenatore in primis giusto giusto perfetto rispetto allora Torino dici un po' eh com'è allenato da quanto tempo alleni? Beh io allenavo prima i i grandi diciamo no? Ho cominciato ad allenare eh una squadra di da a sette poi pian piano mi sono passionato un po' di più e il fatto di aver allenato i ragazzini di di questa età qua e perché sono stato dal mio fratello assunto diciamo così assunto perché lui aveva troppi ragazzini mi ha detto togli mi dai una mano che allenavamo una squadra della la sesta squadra che adesso non si chiama più Dragon God si chiamava Crespi Crespi Morbio e quindi mi ha mi ha detto Tony mi dai una mano e io sono andato e mi sono praticamente appassionato ai ragazzini perché il calcio vero finché era i ragazzini si può dire che il calcio vero poi diventa però è molto diverso allenare una prima squadra una squadra di adulti giocatori già formati o allenare una squadra di ragazzi che devono imparare per cui cambia molto assolutamente sì anche perché diventi un po' uno psicologo per i bambini no? perché sì mi sono accorto con questa cosa qui di avere di fare un po' sai c'è il bambino che si offende se gli dice una parola in più quello che se quello che invece non importa nulla non fa una piega e Quindi pian piano li ho costruiti su questa base qua. Fra l'altro io alleno i bambini 2004, ho cominciato con loro e sto proseguendo con loro perché se è vero che Ferguson ha fatto 25 anni di carriera può darsi. Quindi ogni anno cambi i giocatori? Prevalentemente sì. Molte squadre tengono gli allenatori per il biennio. In poche parole, io ho avuto la fortuna di avere dei ragazzini già preparati. Mi sono arrivati dei ragazzini che non lo so per quale motivo già sapevano calciare. Quindi per me è stato uno stimo. Avranno iniziato un po' di anni prima, 12 anni si è quasi formato. No, perché avevano 4 anni e mezzo, 5 anni. Erano piccoli piccoli e da lì pian piano, ogni anno un inserimento nuovo, di inserimenti nuovi perché sai, la faccia d'età comincia da, si gioca 5, poi si gioca 7, poi si gioca 9. Adesso giochiamo 11 perché siamo grandi, poi farei virgolette. E quindi adesso finalmente siamo arrivati a 11. Ecco, allora, in questo passaggio si cambieranno le metodologie dell'allenamento. Assolutamente sì. Ma anche schemi e tecniche tattiche. Assolutamente sì. Ne parleremo più avanti. Adesso facciamo il salto della quaglia, il vero parliamo con i dirigenti. Perché poi alla fine gli allenatori fanno il loro lavoro, ma i dirigenti hanno un bel lavoraccio da fare. Tra l'altro, dirigenti, tutti sono volontari e tutti sono volontari per un motivo soprattutto. C'hanno il figlio in squadra che gioca. Ed infatti, Luca Gandini, hai il figlio che gioca in squadra. Sì. Ormai sono due anni che Samuel è mio figlio, 2004, era Dragon Ball. Però l'ho sempre seguito nel suo percorso formativo calcistico. Dai primi anni di scuola calcio in Enotria. Abbiamo fatto due anni in Enotria di scuola calcio più i due anni di Pulcini. Dopodiché, dopo il secondo anno di Pulcini, hanno fatto un po' di tagli nella squadra, tagli di queste società comunque un po' più rinomate, dove il livello è un po' alto. Lui non era ancora pronto, probabilmente. Magari bravo tecnicamente, ma non ancora pronto fisicamente. E siamo andati in pro sesto. Anche lì dirigente, un anno in pro sesto. A me piace vedere le cose da dentro, non da fuori. Quindi ogni volta che porti il figlio in una squadra, tu ti candi e dici, voglio fare il dirigente. No, anche perché è un ruolo che nessuno vuole fare. E beh, ma... Perché comunque è impegnativo, devi dedicare le pomeriggi. Quando sono più piccoli stare lì vicino, anche, non so, asciugare gli cappelli piuttosto che controllare le borse. Poi diventano grandi, a questa età qua un po' meno. Gli dai un occhio ogni tanto e finisce lì. Però sono sempre da guardare perché è un'età balurda, tra virgolette. Si fanno scherzi, che cosa... Hanno bisogno sempre del carabiniere dentro, che li minaccia ogni tanto. Ovviamente il carabiniere dentro in maniera buonaria. Tra virgolette. Allora, per gli allenatori ci sono i corsi di aggiornamento e quant'altro, corsi di istruttore. Per cui uno diventa allenatore sempre più bravo allenandoli. Ma per il dirigente? Non ce ne ha corsi. Non ci sono corsi, questo sì. Ma immagino ci sia la società che dà le linee guida. Certo, certo. Cambia la società, visto che hai fatto il dirigente in più squadre. No, comunque ci va a buon senso. Allora, il dirigente è una figura che fa da tramite, diciamo, tra i genitori e la società. Per cui passando... E anche il rappresentante di classe, in versione sportiva. Siamo una cosa del genere. Perfetto. Il sindacato della società, per capirsi. Nel senso che tu hai a che fare comunque con i genitori, come dice Toni, devi essere anche un po' psicologo. Perché magari c'è il genitore che ti viene a dire, eh però mio figlio gioca poco, oppure che non so, non deve giocare quello piuttosto che... Cioè ti arrivano poi tutte le lamentele anche dei genitori. Quindi arrivano al dirigente? Non all'allenatore? No, arrivano tante al dirigente. Il dirigente filtra? Fai da filtro. Poi certe cose le lasci passare. Altre, se sono problemi più gravi, le porti al mister. Poi lui, magari se ci sono degli atti che tu ritieni opportuno, che il mister valuti per prendere dei provvedimenti, lo porti a conoscenza. Altrimenti filtri. Perché sennò diventa veramente... Non ce la può fare... No, 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 diventa veramente pesante la gestione. Allora, Dragon Goal, abbiamo detto Viale Monza-Gorla, parliamo un po' di questa società. Da dove arriva questo nome? Perché magari ce lo chiedono in tanti. C'è un interessante Dragon Goal, immagino che non c'entra in nulla con Goku, con... In effetti è un nome che c'entra poco con il calcio. Tanti ci chiedono, ma voi chi siete? Se gli dici Crespi Morbio, si ricordano per la società storica di Milano, come il Dindelli, piuttosto che il Crescenzago. Dragon Goal è il nome della società del nostro presidente, Longhi, Daniele Longhi, che fa impianti sportivi, diciamo, monta tappeti per campi da calcio, da beach volley e quant'altro. E si chiama Dragon Goal? È il nome della società. Quindi siete come Lanerossi. Lanerossi Vicenza, una cosa di gente. Siete Lanerossi. Nata nel settembre del 2015. 15, per cui la nuova nomea è fresca, la squadra c'è già prima. Qualche anno, sì. E adesso al momento quante categorie avete? Abbiamo circa 180 iscritti, poco meno di 200. E siamo... Ci mancano ancora alcune categorie, per la filiera abbiamo circa sette categorie. Sette categorie? Sì, abbiamo la prima squadra, per esempio ci manca la Juniors, abbiamo i 2004-2005. Quindi avete una prima squadra che fa la terza categoria. Fa la terza categoria. Quanti dei giocatori della prima squadra arrivano dal Crespi a questo punto? Allora, la prima squadra la seguo poco, per cui non vorrei dare una notizia per un'altra. Però penso che le squadre che fa la terza categoria siano via vai di persone. Non arrivano tutte dai settori giovanili. Per esempio anche nelle grosse società, quando tu arrivi all'Enotria, l'Enotria è una società che va molto forte per il settore giovanile, ma se tu arrivi in prima squadra e lì sei arrivato, di solito li finisci. Fai la tua terza categoria, non è che vai a giocare alla Spal, piuttosto che al Monza, all'Alessandria. Ma il bello del calcio è che soltanto uno su 40.000 diventa professionista. Gli altri 39.999 alla fine giocano a calcio ed è ottimale per quando vai al parco, impari a giocare, conosci gente. Certo, certo. È una valvola di sfogo. È una valvola di sfogo, tiene allenati e sicuramente si impara a vivere meglio. Torniamo nella parte tecnica che mi piace questa cosa, mister, mister, mister. Allora, tu hai ragazzi di 14 anni, da quest'anno quindi giocano a 11, figgici permettendo perché cambia regolamenti. Ecco, allora come si fa ad allenare nuovi schemi, visto che il campo è più grosso, ci sono più giocatori, bisogna cambiare tutto? Per esempio, io faccio un esempio più classico, la diagonale dei difensori. Come gliele insegni? Beh, io sono molto tradizionalista, nel senso io sono un po' il calcio all'antica. Infatti molti allenatori quando mi vedono urlare, città eccetera in campo, mi guardano un po' stupiti. Ve li dico la diagonale, cioè insegno il classico, cioè molto non terra terra perché sarebbe un aggettivo che non mi compete, insomma. Cerco di insegnarglielo con parole semplicissime, senza andare la diagonale, gli spiego i movimenti e loro capiscono in automatico. E loro mi dicono, mister, questa è la diagonale? Bravo, visto che l'elettro, senza che ti dicessimo... Però diagonale è un termine abbastanza comune, poi lo senti per le radiocronache, telecronache. Esatto, esatto, come linea bassa, linea alta, tutti questi schemi qua che ci sono ovviamente, perché ci sono. Io gliele insegno in modo diverso, nel senso, in modo che mi insegnano a me. Perché io ho avuto dei grandi campioni che mi hanno insegnato in questo caso. Io sono un tradizionalista, io ho subito pensato, 5-3-2, marcatura è uomo, libero... No, quello no, quello no, a me non piace la marcatura uomo. La fa, cioè questa cosa ogni tanto... Poi bisogna insegnare ai ragazzi a marcare uomo. No, quello sì, anche perché, ripeto, ho avuto una gran fortuna in questi anni di avere i ragazzini già preparati in questa cosa qua. Tutti quelli che mi sono arrivati in più erano già preparati. Il suo figlio, ad esempio, è uno di quelli che... Dico, Samu, oggi ho bisogno di te che mi fai fare la fase difensiva, oltre a quella della... Allora, lui è già mentalmente già pronto. Ovvio, quelli che arrivano adesso sono quelli che... Perché se arrivano già fatti è troppo facile, non c'è neanche il gusto. Esatto, esatto. Ma la cosa bella, guarda, noi siamo partiti l'anno scorso in questa nuova avventura, perché io prima le andavo al Real. Al Real Cacinzago. Al Real Cacinzago. Lui dice a Real ha letto, cavoli, si è spostato da Madrid fino a Gorla. No, 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 noi avevamo, siamo venuti qua perché mi hanno convinto, perché io avevo smesso di allenare lì al Real. E poi ho detto, guarda, prendo un anno così. Poi, beh, varie cose, eccetera, eccetera. E mi è successo, mi hanno offerto, Tony, vuoi ricominciare ad allenare i miei 2004? E ho detto, va bene, io ci riprovo. E mi hanno seguito in tanti, grazie anche, vabbè, ai genitori, alla mia compagna, al figlio, perché già anche il figlio della mia compagna gioca lì. E ho detto, vabbè, io mi rituffo nella nuova avventura. Ed eravamo pochi, eravamo in undici. Sì, eravamo in 2005. Abbiamo preso dei ragazzini di calcio, in quel momento lì, cioè, veramente, ne sapevano pochissimo. In quel momento lì, eh. Sì, in quel momento lì, perché sono arrivati i ragazzini che non avevano mai giocato a calcio, tipo Michi. Sì, sì. Omar. Omar. Però la mia fortuna è stata che io avevo già un gruppo bello tosto, che sapevano già giocare, e tuttora ci sono, non sono rimasti. E questi ragazzini qua hanno imparato, hanno imparato, cioè, subito. Quindi se hai dei compagni che sanno giocare meglio, impari per... Assolutamente. Non osmosi, ma per limitazione. Esatto, perché è questo, è avere un buon insegnante e non... Ma a quell'età viene fuori già il carattere dei giocatori, immagino. Assolutamente sì. Che poi cambia poco quando diventano adulti. Quindi già sapete chi sono quelli che trascinano la squadra, quelli che meritano i gradi del capitano. Esatto. No, io ho una... Tutti mi sono consapevoli? Sì, ma io ho una filosofia diversa del capitano. Sì, ovvero? Cioè, io lo faccio fare a ruota. A ruota. Tutti devono essere... Sapere come protestare con l'arbitro. No, no, quello no, quello no. No, quello no. Tutti devono sapere... No, perché sono tutti leader per me. Non c'è un leader, anche se magari, ovviamente... Leader in campo c'è, c'è un bene. Assolutamente, ma io ne ho più di uno, questo è il discorso. Ah, buono. E allora io a giro, faccio, come si dice, li faccio partecipi di questa cosa, no? Di questa... Di responsabilità. Di responsabilità, esatto. Una responsabilità che loro si sentono, si sentono gasati, si sentono importanti. Cioè, perché per loro, io mi ricordo, io l'ho fatto, ero capitano della mia squadra, l'ho fatto per due anni, ero sempre io, però non ero, cioè ero il leader, mi riconoscevo in questo, però non era una cosa che mi piaceva tanto, io volevo che anche i miei compagni lo facessero. Ed è questo che sto, spero di tramandare i miei ragazzi. Perfetto, allora, domanda secca, devo allenare la diagonale, chiamala come vuoi, come faccio? Che esercizi gli faccio fare? Ma, molte volte faccio la... io esigo velocità, tagli e praticamente faccio partire, faccio, ad esempio, faccio la treccia. Ostrega, faccio la treccia, mi viene in mente una signorina che mette a posto i capelli dell'amica, ma non è questo il caso, quindi... Esatto, la diagonale praticamente viene fatta con questi ragazzi che si intrecciano e l'ultimo, quello che ha la pallina del gioco, diciamo, vabbè, noi ne abbiamo tanti che sono bravi, tagliano dentro, fanno il taglio giusto con l'inserimento dell'esterno che va a crossare e poi, questa è la diagonale, io intendo questo come diagonale. È un movimento in blocco. E la diagonale praticamente è il ragazzo che si inserisce con il taglio, questa è la diagonale. Perfetto. E quindi la considera anche in maniera offensiva, cioè, se uno è in avanti, la diagonale. Io pensavo a quella difensiva, ma va bene anche quella offensiva. La diagonale è la stessa cosa in difensiva, cioè, c'è il libero, il libero, chiamamo il libero, ma genere, il baleano è in situazione, che taglia dentro e l'altro, uno taglia da una parte, quando c'è il cross, c'è già l'altro, che era il terzino, che va a fare la diagonale dall'altra parte. Perfetto. Per chiudere, insomma. Per chiudere, insomma. Allora, tu l'hai detto prima che sei uno di quegli allenatori belli calienti che urla. Se un ragazzo non ti fa la diagonale, ti lascia l'attaccante libero, che gli dici? No. Io urlo, no, 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 ma sono, io ho un bellissimo rapporto, penso di avere un bellissimo rapporto con i miei ragazzi, è difficile che gli urlo dietro. No, dietro no, lui si arrabbia soltanto quando vede delle ingiustizie in casa. Io sono uno di quelli che, io sono veramente, non sono fatto così, sono molto caliente. Sì. Non so per quale motivo, a me le ingiustizie non piacciono. Se le fanno sui miei bambini, poi, ovviamente, sono i miei bambini che allenano, mi dà un po' fastidio. E succede soprattutto con le squadre, che non diciamo quali. Ah, ci sono idee, c'è... Non sono le erbi. Vabbè, immagino che Correal sia derbi in quanto ex allenatore, vicinanza geografica. Non tanto i derbi, a me non sono le squadre che sono più blasonate di noi, che vogliono primeggiare, insomma. Allora, ogni volta che si va là c'è sempre questo clima di un po' di asti, insomma. Perfetto, di agonismo, sano agonismo tra squadre. Luca, invece, mi piace questa cosa di un dirigente che è quasi un professionista del settore, perché se ne è fatto in tante squadre. Allora, che cosa non deve mai fare un dirigente? Cosa non deve mai fare? Uno arriva, dice, un nuovo genitore, il giorno dopo dice, vabbè, mio figlio gioca. Per non fare pressioni sull'allenatore, per esempio. Qual è l'errore che fanno proprio quelli che iniziano a fare... Dirigente. Sì. Innanzitutto ci va tanta passione, sapere aspettare, essere molto pazienti, perché ci va tanta paziente, sia con i genitori che con i ragazzi, perché comunque in quel senso ci va tutti a 360 gradi. Non bisogna fare l'errore di sottovalutare il ruolo, il dirigente che ha un ruolo importante, fondamentale nella squadra. Quindi il neo dirigente, tu lo blocchi e gli dici, oh, fagate il su. Vabbè, ma ci sono anche delle cose pratiche, ma diciamo noi siamo due dirigenti, siamo io e l'altro dirigente che stasera non c'è, che è Stefano del Greco. Quindi due dirigenti per società. Ognuno si occupa della sua parte, diciamo, lui si occupa più della parte distinta, la parte tecnica, organizzazioni, contatti, comunicazione, c'è la partita, ritrova quell'ora, ci troviamo in società, ci troviamo qui, ci troviamo là, questo. Io mi occupo un po' più, che ne so, siccome do anche una mano alla società per organizzare tornei amichevoli e altre cose. Questo ruolo del dirigente è un po' più ampio. Per esempio veniamo da un torneo che abbiamo fatto appena qualche giorno fa, internazionale, qua l'Accademia Inter, dove c'erano squadre. Noi nel giro ne avevamo New York, l'Accademia Rimi di Calcio, poi c'era Spezia di Milano. Quindi da dirigente facevi il traduttore per gli altri. Sì, è stata anche una bella esperienza per i ragazzi, proprio per far vivere a loro questo momento di condivisione di gioco nel calcio tra varie popolazioni, no? Ecco, è un calcio diverso. Come sta? Mi hanno incuriosito molto questa cosa. Quindi erano ragazzini tutti di 14 anni, giovanissimi. Sì, sì, era la stessa categoria. Varie nazioni, vari continenti, a quanto ho capito. Anche Colombia, varie culture. Nord America, Sud America. Cambia molto il livello qualitativo di gioco? Eh, sì. Ho visto che per esempio Sud America picchia come dei fabri. Picchiano proprio come... Sembravano 11 piccoli Ivan Ramiro Cordoba, poi avevo... Ah, ok. Sì, sì. È una cosa... E in quel caso, vostra categoria, avete già l'arbitro che è un dirigenza? Sì. No, no, l'arbitro è un federale. L'arbitro è un federale. Per i tornei? Sempre, il campionato e i tornei. Quindi c'è già l'arbitro. L'arbitro è un federale. Dall'arbitro è un federale, perché non c'è sempre l'arbitro è un federale. Perfetto. Dall'arbitro è un federale, perché magari non si è sentito con il microfono da casa, o chi ci vede in video streaming. Devo ripeterlo. No, 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 va bene. Allora, interessante questa cosa. Quindi, torneo internazionale con varie nazioni. Eravamo 16 squadre, 4 gironi da 4, e poi c'è una formula che premiava le prime 4 del girone ad incontrarsi in semifinale. A, B, C, D, in catassismo finale. Le seconde facevano quinto ottavo e avanti così. Noi siamo stati un po' sfortunati, perché abbiamo vinto la prima con New York 1-0, per cui siamo partiti col piede giusto. La seconda partita ci siamo trovati in vantaggio con l'Accademia Rimini, per cui eravamo messi bene. purtroppo siamo stati un po' puniti da un paio di disattenzioni. Un errore madornale dell'arbitro, c'era un fuorigioco di 3 metri che ci ha castigato 3-1. Bastava perdere 2-1 e saremmo stati messi meglio, perché l'ultima partita che giocavamo con lo Spezia, che era in testa al girone, tra l'altro una bella società che ha rischiato di fare i regionali, è arrivata seconda dietro le note, era per i punti col Calveirate. E ha perso solo 2-1 con le note che adesso fa i regionali. Abbiamo fatto una partita, il ministro lo può dire, una partita della vita, col cuore il ragazzo ha giocato. Abbiamo perso 1-0, potevamo benissimo pareggiare per il merito della differenza reti, negli sconti diretti, noi abbiamo fatto meno 2 nella differenza reti totali, ma negli sconti diretti, nella classifica avulsa degli sconti diretti eravamo messi peggio delle altre due. Per cui il Rimini meno 4, noi meno 2 e il New York meno 3, noi abbiamo fatto il quarto posto, se andate a fare il tredicesimo, quattordicesimo posto. Potevamo fare il secondo per prendere un gol in meno. Tutte e tre, tre punti. Torneo così, bellissimo, bella anche come esperienza per tutti i ragazzi che incontrano davvero. In questi casi riescono al di là del campo i ragazzi a stare insieme, parlare, per una società che arriva dall'altra parte del mondo direi che è bello costoso già il viaggio. Certo. Probabilmente ci sono maniere per spendere meno quando si è su posto, però il viaggio comunque lo paghi tanto. Sì, loro si appoggiavano forse delle strutture qua, non so se oratori o qualcosa del genere, che hanno chiesto all'Accademia, comunque per l'alloggio. Ma i ragazzi tra le varie squadre riuscivano a stare insieme anche fuori dal campo di gioco? Quello non tantissimo. Allora, questo è il secondo anno che lo facciamo, il torneo. L'anno scorso, devo essere sincero, noi eravamo all'Accademia Inter in Via Cilea. Lì c'era molto più possibilità di incontrarsi e infatti interagivano moltissimo i ragazzi con le altre squadre, anzi erano molto, addirittura con i tedeschi, cioè si si è messi lì a parlare e tutti quanti, invece ci hanno dirottato quest'anno a quarto sport, un campo solo sintetico dove si entrava, si usciva e si entrava, quindi non c'è stata questa cosa... L'ho tesa fuori del turno, magari. Però invece l'Accademia era bello perché, a parte il fatto la struttura... L'Accademia Inter ha quattro strutture, credo, separate. È impressionante, è bellissimo. E lì però c'era il bello che durante il riscaldamento, durante la pausa, infatti noi abbiamo fatto amicizia con i tedeschi, con Superga, ci hanno invitato anche loro, è stato bellissimo, quest'anno purtroppo questa cosa qua non c'è stata, quindi siamo stati un po', non so se è stato la categoria del 2004 così, però è l'unica categoria che non ha... E i torni internazionali del genere ce ne sono tanti per le varie categorie? Io ne racconto una, anche se non interessa la Dragon, però abbiamo un figlio che è nell'altra società che era la Crescenzago e loro sono andati con suo fratello che allena... Io ho i due figli con i due fratelli. Perfetto. È una cosa, tutti in famiglia, in due società diverse. Però hai scelto di fare il dirigente in una, non voglio sapere perché, non hai preferenze... No, ma sono stato dirigente anche nell'altra. Perfetto. Per cui io per la parca 11 sono stato un po' da uno, un po' dall'altro. Un anno ho fatto di là. E di là? Allora, di là, niente, i ragazzi hanno organizzato, tra l'altro io non sono potuto andare, non sono potuto andare da solo, categoria 2007-2003, hanno organizzato un torneo che è la Spring Cup a Praga. Sono partiti mercoledì scorso, mercoledì sera. Quindi fresca proprio. Fresca, mercoledì sera. Tornio di Pasqua, giocavano il venerdì, il sabato e la domenica di Pasqua. Niente, sono partiti per fare un'avventura. Questi ragazzi erano... Io parlo della categoria 2007 dove c'è mio figlio, erano 13 ragazzi, giocano 7 loro. Niente, sta di fatto, avevano un giro nell'italiana, 5 squadre, l'unica squadra italiana. Poi l'emozione che mi ha raccontato, veramente l'inno nazionale, la sfilata e tutto il resto. Poi all'estero. Sono partiti le prime tre partite, le hanno battuto i tedeschi, poi le altre due squadre della Repubblica cieca, adesso dei nomi impronunciabili non mi ricordo più. Savero forse era l'ultima, quella della finale. E hanno vinto le prime tre, la quarta incontravano, diciamo, si giocavano il primo posto in classifica, una formula strana, che premiava le prime due e le portava in finale. Praticamente, quella partita lì, suo fratello ha fatto un po' di esperimenti, perché tanto è una partita che non interessava più di tanto. I ragazzi però ci tenevano lo stesso. Primo tempo perdevano 1-0, è finito praticamente la partita, finisce la partita, perdono 4-0. Scoppio nell'acchim e così cos'è. Suo fratello, giustamente da buon psicologo, va vicino e gli dice, ragazzi, fa niente, è andata così, abbiamo fatto dei cambiamenti, e domani giochiamo la finale, perché le prime due accedevano alla finale. Per cui, il giorno dopo, finale, carichi a mille, con i 2003 che facevano il tifo, con i tamburi, dalle tribune, sta di fatto che hanno giocato sta finale, contro la stessa squadra, l'Oxavarov, e hanno vinto sta finale 5-0. Con gli stessi con cui avevano perso 4-0. Loro trasformati, avevano sangue agli occhi, hanno vinto 5-0 la Coppa. Pre-tattica, pre-tattica. La partita prima, hanno perso, facendo finta di non essere capaci, per poi sorprendere il giorno dopo in finale. Perfetto. Si fa, pre-tattica. Sì, sono scesi dal pullman, pensavo col prosciutto di Braga, e invece sono andato da casa la Coppa, ho detto, va bene lo stesso. E meno male che nessuno è arrivato con la finanzata dell'Est. Poteva andare meglio. Ecco, una domanda, per esempio, quando avete le partite di campionato e i vari tornei, quanto fate pagare il biglietto d'entrata? 3 euro. Ma, sì, noi 3 euro, noi 3 euro, ma ad esempio, molti, molti esagerano, questo torneo qua, 6 euro. 6 euro? Sì, sì, esagerano. Quello internazionale? Sì. Beh, altronde, vedi giocatori colombiani, giocatori statunitensi. Compreso panino, buschetta. No, no, che compreso, 6 euro solamente il biglietto, poi tutto il resto incredibile. Forse solo per questo torneo, perché di solito io sto... Chiedo a tutte le società che vengono quanto fanno pagare il biglietto. Dai 2 euro e 50 in su, diciamo, poi dipende anche la società. Poca roba, comunque. Sì, sì, sì. Noi in genere 3 euro. 3 euro. 3 euro. Allora, visto che abbiamo parlato di costi, quanto costa iscrivere proprio figlio alla Dragon Ball? 320 euro. 320 euro, tutto compreso. Tutto compreso. Vedi, 300 euro? Tutto l'anno. Compreso materiale, e quindi rimangono fuori le scarpe, i parastinchi, quelli sono... Termiche. Ma, io gioco a pallavolo, per cui, chi è iscritto alla federazione di pallavolo, ha determinati sconti in determinati negozi. Succede la stessa cosa anche per il carcere? L'abbiamo l'anno scorso, l'abbiamo l'anno scorso, quest'anno invece, purtroppo, non c'è più la convenzione, perché ci sono state un po' di... in società, essendo una società molto piccola, infatti noi diciamo, noi ci autogestiamo, diciamo... Abbiamo toccato i servizi finanziari, a livelli basi, ma molti servizi. Noi abbiamo... ci siamo trovati lo sponsor l'anno scorso. Si trovano gli sponsor ancora. Sì, 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 guarda, noi abbiamo dato il dirigente che è un altro cervellone, anche lui, perché io ho avuto anche questa gran fortuna di avere due dirigenti che mi danno veramente tanto tanto. Allora, torneremo a parlare dei dirigenti subito dopo questa pausa, per cui non cambiate canale, rimanete ancora qui su Radio Milan Inter, che torna a Primi Calci tra poco. Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione, la passione. Ed eccoci di nuovo a Primi Calci, la trasmissione di Radio Milan Inter, dedicata proprio al calcio giovanile e non professionistico, oggi qui in studio, abbiamo la Dragon Goal con allenatore e dirigente dei giovanissimi, Luca Gandini e Tonino Bartolotta, che, come accoppiata, più un altro dirigente, a quanto ho capito bene, riescono a tenere su la loro squadra e portarla avanti. Che speranze hanno questi ragazzi, i vostri ragazzi? C'è qualcuno che dice io da grande farò il calciatore, diventerò professionista? Ma, prevalentemente sono i sudamericani, perché ce ne abbiamo tanti, perché non è tanto la loro ambizione, più quella dei genitori perché sperano che i figli possano fare questo. Sì. Perché loro vengono, si divertono, però hanno molte persone dei genitori, tu devi giocare, devi fare, insomma, loro prestano questa cosa qua, no? e obiettivamente ne abbiamo di bravi, perché la squadra è veramente una bella sortita, però abbiamo tantissimi ragazzi italiani che a loro non interessa diventare chissà che cosa, a loro interessa giocare e divertirsi, perché, ripeto, uno di questi è proprio suo figlio, cioè, a lui piace divertirsi, si è spaccato il setto nasale due mesi fa, è rientrato dopo neanche un mese, voleva già giocare, voleva giocare con la mascherina tipico da calciatore perché, perché, penso che anche l'ambiente che abbiamo creato, perché abbiamo creato veramente un bel ambiente e non è facile, non è facile creare un bel ambiente, con i ragazzi che si vogliono bene, che si rispettano, certo, c'è l'eccezione, quindi è una squadra multietnica, assolutamente sì, nazionalità da dove arrivano, perché, perché, allora, un po' lo sanno tutti, come le figurine, ce l'hai, ce l'hai, mi fai una domanda e ti do, ce l'ho, ce l'ho, perché così è pazzesco, via Le Monza, via Padua, tutta quella parte lì, tutta quella zona lì, è una parte sudamericana, certo, anche persicana, Nicola, serbo, serbo, credo, albanese, serbo, brasiliani, brasiliani, e tutti che giocano a Caimano, ormai immagino la seconda generazione e parlano in italiano tranquillamente, ma guarda, sono bravi, cioè, ma poi sono proprio bravi come ragazzi, non c'è il testa matta, perché, molti dicono, eh, ti sono sudamericani, invece, siamo riusciti a fare un bellissimo gruppo, è per questo che, come si dice, spero di portarli il più avanti possibile, ma non perché diventino campioni, ma che diventino almeno delle belle persone, tutto qui, almeno nel calcio, io, alla fine siamo, siamo educatori, no? Noi siamo educatori, poi alla fine, per un ragazzo c'è l'immagine, c'è il genitore, il maestro di scuola, e l'allenatore di calcio, il mister è tanta roba, è anche una cosa importante e pesante da tenere sulle spalle, perché è una responsabilità non indifferente, anche i dirigenti hanno responsabilità non indifferente, certo. loro fanno un lavoro veramente, fare virgolette sporco, perché, i dirigenti? Eh sì, non è facile, non è facile. Ma, a 14 anni sicuramente no, ma i dirigenti delle categorie prima, per esempio, io mi sono immaginato, spogliatoio, tutti i ragazzini seduti, e sti dirigenti a fare i nodi delle scarpe. Eh, purtroppo i primi, che sono due scarpe per giocatore, è una bella lunga. beh, poi c'è qualcuno che, che già, diciamo, a 9-10 anni, già sveglio se le fa, perché comunque, ce ne sono alcuni che, ancora a 12 anni, se le fanno lacciare, quasi, perché, lui lo fa come rito, come rito, è un rito diventato, lacciare le scarpe. E quando io, ragazzi, nel 2004, ti faccio queste cose. E come Ronzo Canà, quando buttava il sale, lui, laccia le scarpe, ognuno il suo. Sì, e, è così. Allora, altra cosa che a me, ogni volta, ci penso, come fa una squadra, a trovare i dirigenti, ma a trovare i dirigenti, che siano, sicuri, tranquilli. Perché c'è sempre il dubbio, anche i genitori, lasciano i ragazzi, alla società, c'è sempre il dubbio, ma saranno persone a posto? Il pedofilo causa, da giornale viene sempre. Come, qualche controllo fate voi? Come fate? Vi autocontrollate tra di voi, immagino? Sì, diciamo che è un controllo, non è che c'è una vera e propria selezione, come ripeto, siccome è un ruolo dirigente, è un ruolo delicato, è un ruolo difficile, ed è un ruolo che nessuno vuole fare, proprio per l'impegno, che richiede, si cerca di trovare delle persone, che vogliano, vogliano farlo, e che siano magari, il più corrette possibile, ma di solito, nel mio ambiente, ho sempre trovato, a parte qualche volta, magari c'è qualche dirigente, che magari, parte un po' di testa, vuole fare l'allenatore, ecco, quello sì, quello succede, però, dirigente pedofilo, piuttosto che dire, quei casi, fortunatamente non sono mai successi, almeno nelle società, che ho frequentato io, Vedi, allora, da casa c'è la curiosità, allora, io ricordo che chi vuole, mandarci un sms, lo può fare al numero, 392-8263-444, questo è il numero, per gli sms, anche senza dare il numero, è già arrivato un messaggio, da Umbi Rossonero, che dice, sono un dirigente di una piccola società alle porte di Milano, la Poglianese, settimana scorsa avete parlato con l'Accademia Inter, vedi, ci segue anche ogni settimana, di costi, e allora chiede, come mai l'Accademia costa più del doppio, rispetto, alla società che c'è oggi in trasmissione, che si chiama Dragon Go, glielo ricordo anche a lui, e poi ci fa i complimenti per la trasmissione, io non faccio nomi di società, ci sono società importanti, ci sono società anche di 680 euro, 650 euro, ci sono società, io non faccio nomi, affiliate al Milan, che hanno un'iscrizione di 650, circa 700 euro all'anno, e poi c'è il kit a cambiare tutti gli anni, è obbligatorio, è obbligatorio, l'abbiamo scoperto, infatti prima della trasmissione, ho detto, ma voi siete affiliati con qualche società professionistica, la risposta è stata no, io ho pensato alle tasche dei genitori, che hanno detto, beh, meglio, perché il kit è bello esteticamente, mentre noi bene o male, se il bambino, il ragazzo non è cresciuto tanto, ha l'XS quest'anno, ha ancora l'anno prossimo, la rimetti, certe società invece cambiano proprio i colori, le bande, perché magari hanno dei vincoli con gli sponsor tecnici, tipo l'Adidas, piuttosto che l'altro sponsor, e devono cambiare, e quello fa salire i prezzi, sicuramente, i kit costosi. Un'altra cosa, loro mettono sul piatto, il mister dell'anno, il Murigno, hanno tutti i professionisti, è vero, che vengono anche seguiti, molti sono laureati, hanno fatto bene, ovviamente, ed è giusto anche così, voglio dire, però la cosa più bella è vincere contro queste persone. Però è bello vedere anche società che, molto organizzate, la settimana scorsa, per esempio l'Academy, c'è anche il reparto fisico, che vengono seguiti tutti i ragazzi, da ragazzi che hanno studiato per questo, ed è forse un gradino in più. Ecco, una cosa che chiedo, ho chiesto a loro, ma chiedo anche a voi, le chiedo un po' a tutti, è arrivano gli osservatori a vedere i vostri giocatori, in quel caso, cosa fanno? Passano dal dirigente? Non sempre. Non sempre, la cosa brutta e sleale è proprio questa, perché cercano di trovare il numero del giocatore, dalla distinta, e poi vanno direttamente dai genitori, come se fanno i procuratori, fra virgolette, no? Esatto, ci sono procuratori? Assolutamente, a me l'hanno fatto, guarda, proprio due settimane fa, un ragazzino dei miei, tra l'altro, è uno degli, fra virgolette, scarti, e sono andati direttamente nel negozio del papà, chiedendole, appunto, posso parlare con il suo figlio, neanche col padre, col figlio, se voleva andare a giocare in questa società. E il figlio ha detto, no, no, io mi trovo benissimo con il mister Tony. Quando uno firma per voi, per quanti anni è legato? Un anno, in genere un anno. Poi, ovviamente, adesso non so, due o tre anni. E lì, dirigenti, quello lo devi sapere tutto. E l'allenatore deve pensare soltanto al campo, far giocare l'allenatore. Esatto, esatto. Ecco, una cosa, per esempio, a livello fisico, a quest'età, 14 anni, com'è la preparazione? Beh, cioè si fa il fondo prima? No, io, guarda, anche questo sono stato fortunato, perché io mi aggiorno, ovviamente, non è che faccio allenatore così, li metto così, li faccio correre. Quindi la mia preparazione è stata molto soft, per arrivare a un anno lungo, lunghissimo come questo. Quindi, mi aggiorno, faccio esercizi, e praticamente faccio il fondo, ma lo faccio sempre con la palla. Sempre con la palla. Ormai tutti quanti, io lo devo dire al mio mister, che noi giochiamo a pallavolo, e nonostante questo ci fa correre. Noi una volta avevamo un pallone, ed eravamo in 22, adesso hanno un pallone a testa, quindi è giusto fare correre col pallone. Forse sì. Anche perché è una questione di controllo, questione di... Ti impara tecnicamente. Esatto. Più palla hai al piede, è meglio adesso. L'esercizio, la Lidl, davanti al muro, far di piatto? Io lo faccio con i ragazzi, ma poche volte, perché preferisco farglielo fare tra di loro, li faccio viaggiare a coppia, in tre, in due, in modo che hanno più movimento. Questi sono esercizi che, a volte me li invento, sincero. Esatto. Allora, un giocatore che ha giocato per te, ogni volta che cambia allenatore, ogni allenatore c'è la sua fissa, c'è il suo pallino, il suo esercizio prediletto. Uno che ha giocato con te, dovrà dire, ah, il mio mister, ma sai che esercizio ci faceva fare? Qual è l'esercizio che fai fare, per cui, secondo te, sei più nominato? Ma io faccio fare molti esercizi, perché io gioco, un gioco, secondo me, di attenzione, nel senso, io aspetto, e poi, aspetto. Cosa aspetti? All'italiana, no? Un po' all'italiana, un po' all'italiana, aspetto, per poi punire, perché poi io gioco molto sulle fasce. Contropiedista. Contropiedista, perché io giocavo da contropiedista, quindi, per forza, per forza così. Quindi ho le fasce che sono molto veloci, sono riuscito ad inventarmi questi due ragazzini, che, fratto, sono brevissimi. In genere, ho Lollo, che è sulla fascia sinistra, e ho il suo figlio interno, che è un altro mancino puro, e poi, d'altra parte, adesso sto alternando un ragazzino, tra l'altro, che è da poco con noi, e sta andando bene. Abbiamo te, abbiamo Davi, che sono ragazzini velocissimi, e hanno questa cosa qua, di guardare il puntero, sì, che è fantastico, con la linea, la linea di centrocampo, che abbiamo anche questi due ragazzini, bravissimi anche loro, Nico, faccio lui, che è quello più tecnico di tutti, senza togliere nulla dagli altri, ma è un dato di fatto. Nico è il nostro dono. E questo qui, gli dico sempre, Nico, appena poi, vai sulla fascia, oppure, cioè, perché lui che fa gioco. Quindi, l'esercizio per le ripartenze, qual è? Io, una volta ho fatto un, facendo giornalista, ho seguito anche molto il calcio, sono andato in ritiro con il Chievo, e allora era il Chievo di Del Neri, e tra i vari esercizi, fantastico, cioè, ripetono gli esercizi, e non li sbagliano di un centimetro, è una roba miracolosa. Noi non li sbagliamo. No, immagino, e c'era, c'era proprio uno degli vari esercizi, si mettevano giù, il campo a 11, proprio a 11 ancora, e, allora, questo è il nostro limite, ad esempio. Palla la punta, la punta lo ridà al centrocampista, e il centrocampista rilancia la stessa punta che intanto è scattato. Prese. Questo è uno degli esercizi tipici da... È uguale. È il nostro gioco. È il nostro gioco. Ah, quindi fai un esercizio alla del neri. Alla del neri, senza saperlo, perché non lo sapevo, giuro. Ma in quel caso, sulla fascia o al centro? Sulla fascia, io sempre sulla fascia, cerco sempre di andare sulle fasce, perché, appunto, avendo i velocisti sulle fasce, io prediligo questo gioco qua. Infatti, molti vengono spiazzati, no? Dal nostro gioco, perché pensano, la Dragon Goal, che scuolta età è, vengono lì, e poi tornano questi, questi missili che vanno velocissimo, poi la punta davanti, che anche lui è un altro missile. Ma è di testa? Scattato. Poi alla fine, il gioco sulle fasce, mi immagino che... No, di testa, allora, io non... è una legge che c'è, se non sei una legge o una... perché fino a 14 anni, i ragazzini, in teoria, non dovrebbero calciare di testa, cioè colpire di testa, non calciare, scusa. Ma come fai a deciderlo? Cioè, se un portiere fa un rinvio? La palla di... Io certo, faccio fare esercizi pochissime volte di testa, però fino a 14 anni, hanno sconsigliato di farli colpire di testa, perché... Ma non è evitato la regolazione? No, non è evitato. Se uno fa gol di testa, vale? Assolutamente sì, certo, certo, no, è assolutamente una cosa la FIGC, a meno. Ah sì, c'era sta notizia... C'era sta notizia... C'era sta notizia in giro, fino a... L'ho detto anch'io, un po' di tempo fa, che volevano mettere dei paletti sul... Perché dicono che comunque, non essendo ancora formato completamente tutto il cranio, c'era il rischio di... Adesso di fratture, di... Però dovrebbero a quel punto abolire anche i portieri, cioè uno vive a fare il ruolo, a prendere pallonate, non va già bene, è uguale. Fino il testimone, si spaccano il naso di testa, prendendo un calcio alla Kung Fu Panda, mentre è mezzo ad altezza. Mister, colpa tua che non l'ha allenato sui colpi di testa, e lì... Ma lui è saltato, è bello che sta... Ma lui è saltato, è rimasto qua, è saltato poco. E... Succedono spesso gli infortuni? Da voi? Spesso, beh, noi ne abbiamo avuti due, diciamo, gravi quest'anno, Lollo è stato... ha avuto un infortunio muscolare, sarà un mese e mezzo fa, distorsione, distorsione, con esami, adesso che doveva fare gli agnostici. C'era questa TARC, sperando che non ci sia niente di... Niente di grave, si vedrà con l'attacco. Campo com'è? In erba? È un sintetico. È un sintetico, teoricamente ci sono meno storte, quello sì. È un sintetico, diciamo, di vecchia generazione, di media generazione. C'erano nove anni. Nove anni, sì. Qualcuno sì. Però... Vabbè, è un buon sintetico, non è male. Ci sono dei campacci ancora in giro, di alcune società, magari anche più brazonate della nostra, perché pian piano... Il problema lì è di avere la concessione. Io ho parlato con altri dirigenti, dice giustamente se non abbiamo la concessione del comune, è inutile che facciamo un investimento di 5-10 anni, perché poi dice tutto il discorso credito sportivo, un campo costa 4-500 mila euro, adesso è un campo unico. Più spendi soldi all'interno della concessione, più il tuo contratto si allunga. Tra l'altro anche noi abbiamo... Costa meno per fare il campo, cioè il prato, che la concessione. Cioè la cosa fuori da... Si allunga, più spendi soldi nella tua concessione, più si allunga la concessione, anche perché uno deve rientrarci. Sono dei mutui che tu fai. La nostra società mi sembra che ha questo mutuo ancora, che parlavo da estinguere nel giro di... Deveva essere un anno e mezzo, due. Ha lasciato i debiti vecchi della Crespi Morbio, per cui abbiamo preso tutto. Per cui è ancora... No, un anno e mezzo più la maxirata, che non so quanto sia, e non sono l'interno della società. Io, altro domandone sui genitori in questo caso. Eh no, quello ci sta. È una delle cose più divertenti poi quando si parla di calcio giovanile e di squadre. Come sono i vostri genitori? Poi è bello, se avete dei genitori che sono multiculturali e multiraziali, secondo me viene ancora più divertente. Allora, io sono sincero. Gli elementi che disturbavano, pian piano, col passare degli anni, se ne sono andati, no? Andati, non chi si sono calmati. No, 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 perché loro se ne sono andati proprio perché evidentemente non mi piaceva il mio sistema, non mi piaceva... E quindi abbiamo quest'anno, veramente, abbiamo un gruppo veramente, veramente bello, cioè, dove si vogliono bene, dove cercano di... E non protestano con l'allenatore che non fa giocare quel giocatore abbastanza tempo? Beh, non lo posso sapere, questo perché davanti è normale, davanti non mi dicono nulla, però io sono uno di quei pochi allenatori e mi sono testimoni di genitori, non posso dire il contrario, che faccio giocare sempre tutti, a prescindere. Durante la partita, i genitori sugli spalti, immagino che se la panchina è dall'altra parte, e la tribuna, della parte opposta, al genitore venga voglia di dare consigli al giocatore. Assolutamente. Sono tutti mister. Ah, sono tutti mister. E voi in questo caso, gli dite di non farlo, o si deve abituare il giocatore a subire questa cosa? Ripeto, c'erano due genitori, due o tre genitori che gli scorsi anni, diciamo, il figlio, le spostate di qua, e il figlio lo faceva. Lo faceva anche? Sì, sì, certo. Anche io dicevo, guarda, se continui così, con me non giochi più, perché allora, ti faccio allenare da tuo papà, così, poi pian piano se ne sono andati, e purtroppo, mi dispiace di vedere il ragazzo perché alla fine i ragazzi sono sempre ragazzi, non c'è niente da fare. Ah, certo. Il genitore pensa di avere dei figli fenomeni e li portano in squadra, li porto là perché così diventa un fenomeno e poi ti accorgi che è in panchina, non gioca, il bambino si è stuffato, non c'è più voglia di andare a giocare e questo è grave. Perché? Voi dovete farli giocare tutti? No, non più. È una scelta mia. Molte volte... Nelle categorie inferiori ovviamente devono giocare tutti, uno un tempo, l'agonistica no perché... L'agonistica è proprio calcio... Decido io. Quante sostituzioni? Sette. Se ne porto 18 devo far sostituirli tutti. No, non devo. Li posso, li posso. Li puoi sostituire tutti. Io lo faccio perché tra l'altro ho dei ragazzini che sono... Cioè, ti do fuori uno e metto l'altro intercambiabili. Magari sono un po' meno forti degli altri. Però sono più freschi. Sono più freschi e corroni. Si stancano i bambini? Io... ma non lo so... Nonostante facciamo due allenamenti a settimana io riesco a far ricorrere i due tempi riesco a far ricorrere cioè corrono tantissimo. E la cosa bella per me è una soddisfazione. Riuscire a fare una cosa del genere perché ci sono squadre che fanno tre allenamenti a settimana e molte volte non ci stanno dietro noi. Addirittura. Sì, giuro. Giuro, veramente. È incredibile. Penso che sia anche questione di motivazioni. Come diceva Tony, in una città piccola come la nostra, diciamo, alle porte di Milano, quando vai a incontrare queste società blasonate non so, Cimiano, Lombardia 1, Pro Sesto certo che loro sentono la partita proprio lo spirito e tirano fuori il mille per mille come è capitato adesso al torneo contro questa squadra la Spezia che secondo me è una bellissima squadra proprio bravi anche corretti una bella squadra infatti faccio i complimenti e non se sono riusciti facendo il nostro gioco di ripartenze come dice Tony un po' chiusi indietro col contropiede sono riusciti a hanno rischiato anche di pareggiare una partita che una squadra che fa due o tre gol a partita a tutti ha subito due gol in un campionato due o tre gol in un campionato con l'Inter Masseroni tutte le società blasonate Continuiamo a parlare di gestione genitore visto che tu sei quello che deve fare da tramite tra allenatore e genitori ecco una cosa che mi incuriosisce a inizio anno fate una riunione con tutti i genitori con il va de me allora è vietato dimmi cinque cose che è vietato fare ai vostri genitori ai genitori entrare in campo beh certo entrare in campo perfetto entrare nello spogliatoio beh nello spogliatoio si ci sono dei punti che noi delimitiamo dove loro non hanno accesso ok continuiamo insultare l'arbitro vietato beh certo ma glielo dici sono cose che alcune gliele dici altre dovrebbero anche saperlo va beh non è detto magari un colombino visto che entravano tutti a piedi uniti ma tanti genitori a volte io dico sempre è meglio avere una squadra di undici orfani tante volte che avere i genitori così non hai erogne non hai questioni con nessuno però meno male altre cose vietate genitori? ma diciamo di cose grosse cercare diciamo cercare a bordo campo di limitarsi a incoraggiare il figlio e non a dare consigli vai indietro vai avanti spostati accendati lancia queste cose qua a ognuno il suo mestiere non insultare il mister non insultare il mister è un classico è un classico e neanche i dirigenti che fanno i guardialine tante volte i dirigenti sono guardialine sì l'abito federale i dirigenti guardialine magari quelli a casa che non lo sanno io avverto i guardaline quando sono dirigenti segnano soltanto la palla quando esce non devono segnare il fuorigioco anche se li vedono i fuorigiocchi anche se per la squadra avversaria non lo possono fare non possono messersi decide sempre la mi è capitato noi contro anche questi allora io dico una cosa in questa categoria io parlo la nostra giovanissimi fascia B per cui parliamo giovanissimi primo anno tutti arbitri prima esperienza per cui tanti arbitri con tutor ci sono alcune ragazze che hanno cominciato ad arbitrare quest'anno e cominciano giustamente i giovanissimi B e a volte vedi degli errori con Tony ci mettiamo due effetti di salame negli occhi perché a volte veramente io sono calmo lui un po' meno però a volte diventa difficile gestire il tuo stato d'animo il pathos che hai dentro e tante volte a me è capitato di sbandierare un fallo laterale perché è l'unica cosa che potevo fare ma fuori di un metro e mezzo l'arbitro dice no non è praticamente non ha dato un fallo laterale ha fatto proseguire l'azione ma era fuori veramente di parecchio per cui dice allora a questo punto prendi tieniti pure la bandierina fai arbitro guardi le linee fai tutto tu non puoi perché ti becchi la muccia per cui non si può bene allora il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito però è stato davvero divertente chiacchierare con la Dragon Goal però 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 prima di chiudere allora come fanno i genitori a casa che magari sono della zona sono di Gorla e stranamente magari non vi conoscono come fanno a recuperarvi indirizzo fisico e indirizzo internet allora indirizzo internet segreteria chiocciola dragongool.it perfetto io ricordo è Dragon Goal Goal scritto Goal tutto attaccato perfetto e invece e se uno vuole venire fisicamente da voi dove vi trovate? proprio la fermata in via Becchi due la fermata di Gorla proprio proprio di fronte uno sale alle scale di Gorla e di fronte c'è la Dragon Goal via Becchi due io penso che a livello strategico sia veramente una società come ce ne sono poche a Milano proprio con la fermata metropolitana Gorla metropolitana rossa linea rossa linea rossa m1 allora grazie davvero a Tonino Bartolotta per essere stato qui con noi grazie grazie a Luca Gandini grazie buon lavoro e buon proseguimento di campionato c'è ancora da divertirsi grazie a tutti grazie anche a casa a chi ci ha sentito a chi ci ha guardato via web ovviamente l'appuntamento con primi calci e per settimana prossima buona serata a tutti quanti grazie a tutti